Stiamo cercando di arrivare con questo collatore che si è rotto, proviamo a farci una lampada per gli arlo, eh? Perché dentro al bicchiere ci sarà la lampada, quella con le lucine che girano, eh? Boh! Guardiamo! Allora, e adesso prendiamo un portarampade, i bucchi a live, facciamo un'operazione preliminare qui. Adesso dobbiamo fare un buco dove ci possa essere questo. E vediamo un po'. Proviamoci con la fegata. Ci siamo riusciti! So, adesso, dovremmo fare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.